Perché la gente si convince a comprare? Perché la persona che entra in un negozio alla fine decide per l'acquisto? Che cosa sono i trigger che lo spingono? Uno molto importante che c'è sia prima che la persona entri nel negozio sia quando la persona è già entrata nel negozio sono i testi e nel mondo tecnologico di agenzia e in generale tecnico si parla di copywriting. Il copywriting è la capacità di scrivere testi persuasivi. Poi copywriting vuole anche dire scrivere un testo apposta, specifico per quelle persone lì che lo stanno leggendo e per il mezzo in cui il testo si trova. Un'altra cosa è che è un testo scritto per raggiungere un obiettivo. Cioè non sono testi che vengono scritti così in base a quello che forse va bene, no? C'è un metodo preciso che viene usato in fase di costruzione di questo testo che fa sì che il testo raggiunga l'obiettivo e quindi chi lo scrive deve sapere qual è l'obiettivo ovviamente. Vediamo un attimo nella nostra piattaforma e-commerce dove sono questi benedetti testi. Visto che abbiamo detto che ci sono, che sono importanti per la conversione, ma quali sono i testi che entrano in gioco nel mondo dell'e-commerce? E scommetto che qualcuno di questi che diremo forse non vi è venuto in mente. Allora, i testi sono punto uno sul sito. Sono sulla scheda prodotto perché noi stiamo vendendo, siamo un e-commerce, vendiamo dei prodotti. Quindi la nostra scheda prodotto ha dei testi, ok? E questi testi possono essere più, meno lunghi, scritti in un modo o nell'altro, ma sono i testi della scheda prodotto e un testo del prodotto non è solo la descrizione, ma soprattutto il nome. Il nome del prodotto è il testo più importante per quel prodotto. Poi ci sono gli altri testi del sito. Alcuni sono funzionali all'acquisto, ad esempio i nomi delle categorie, la struttura con cui ho deciso di impostare le mie categorie o collezioni, se siamo in Shopify, eccetera. E poi ci sono altri testi, la pagina di chi siamo, la pagina delle spedizioni, come funziona e quali sono le spese di spedizioni, come puoi pagare, le condizioni di acquisto, la privacy policy, i testi presenti nella home page. Categorie, testi home page, titoli dei prodotti, schede prodotto, sono tantissimi testi. E questi contribuiscono in maniera massiva alla conversione oppure no. Cioè questi testi, in base a come sono scritti, decidono se il cliente compra o se non compra. È lo stesso cliente, è comunque entrato sul negozio, la differenza la fanno quei testi lì, insieme ad altre cose naturalmente, ma quelli sono molto importanti. Poi, che altri testi abbiamo? Nelle pubblicità. Potrei aver fatto pubblicità su Google. E ovviamente su Google la pubblicità può essere di vario tipo, può essere anche di solo immagini. Ma normalmente c'è un titolo, un testo, qualche cosa che mi veicola, che fa in modo che la persona trovi quello che mi serve, che quello che gli serve, scusate, trovi quello che serve alla persona e venga nel mio negozio. Quindi questo testo che sta su Google, lì, che galleggia, deve essere notato. E la persona ci si deve riconoscere. Questo è un altro tipo di testo. Un altro testo possibile è quello nei social. Il testo social è fondamentale. E tante volte, e qui è facile capire la differenza di quando vi dicevo prima, il copywriting in base al mezzo. Sul social si scrive, si parla in una maniera più diretta. Diversa da quella che magari si userà dopo nella scheda prodotto sul sito o nella pagina delle condizioni d'acquisto. Un'altra cosa fondamentale sono le email. Nelle email i testi sono molto importanti. Però distinguiamo due tipi di email. Ci sono le email transazionali e le email dem, cosiddette, o newsletter. Quindi le email transazionali sono quelle automatiche che dipendono dalle azioni dell'utente. Ad esempio il carrello che è rimasto lì. Guarda, è ancora quei prodotti nel carrello. Sei sicuro che non vuoi finalizzare l'acquisto? Oppure la conferma d'ordine. Grazie ad aver acquistato. Il tuo pacco è in preparazione. Abbiamo spedito il tuo pacco. Sei contento dell'acquisto? Lasciaci una recensione. Queste email non le mando io direttamente, ma vengono mandate in automatico dal sistema che utilizzo per gestirle. Che può essere ogni tipo. Cioè Shopify ce le ha, Magento ce le ha, si installano i plug-in, i moduli, le app. Gestiscono tutto questo. Ebbene, queste email automatiche sono molto importanti e spesso si tralasciano. Arrivi in un sito, fatto tutto. Va bene, vediamo le mail. Magari c'è ancora il testo in inglese, un bottone sbagliato, ma addirittura non sono personalizzate. Che invece è importante, dopo vi dirò perché. Poi ci sono le dem cosiddette, quindi le newsletter. Le newsletter a cosa servono? Servono a vendere. Servono a vendere, a creare retention, a creare loyalty, a trasformare il mio cliente in un cliente appunto che acquista più volte. Servono a stimolare politiche di acquisto quando io ne ho bisogno. Hanno diversi motivi. Insomma, si può fare mille motivi nella newsletter. Di solito io mando la newsletter, poi la gente viene sul sito e compra. Ora, potete capire immediatamente, no? In base a come la scrivo, questa newsletter finisce in una inbox dell'utente dove magari ci sono altre 100 newsletter che sono arrivate quel giorno lì per il Black Friday. Quindi, fondamentale come la metto giù. Fondamentale l'oggetto. Fondamentale i testi. Anche la foto, anche l'immagine. Ma quella non compare subito. Compaiono i testi. Dentro il mio Gmail, cosa viene messo? La foto che c'è nel prodotto, nell'elenco? No. Vengono messi il titolo e la primissima parte del messaggio. Ecco che qui l'importanza dei testi. In questi testi che vi ho detto, cosa mi aspetto? Il testo sul sito della scheda prodotta, cosa serve? Mi serve per la scelta. C'è il cliente lì dentro, capirà se quello lì è il prodotto giusto per lui. Serve per la consideration, in parte, serve sicuramente per la scelta. Le categorie servono anche loro per la scelta, ma non solo, anche per l'autorevolezza. E molti altri testi del sito servono per l'autorevolezza e anche per il branding. Se io ad esempio ho un sito giovane, simpatico, intuitivo, destinato a dei teenager, la privacy policy deve essere scherzosa, pur nel rispetto ovviamente della legge e della normativa, ma deve essere simpatica, scritta in breve. Ho visto diversi siti bellissimi. La privacy policy sembra un racconto. Quindi questo è il classico esempio di un copy inserito giusto. Per esempio, è un sito molto, cioè B2B, molto classico, molto che la gente deve avere massimo trust, devo ispirare fiducia, avrò una pagina del chi siamo, molta azienda lista, fatta in un certo modo. Che però è importante che sia fatta così. Quindi questi testi servono a far capire chi siamo, creare fiducia, creare awareness del mio brand e servono a creare in generale quell'autorevolezza che serve a far capire se io sono un sito in cui tu puoi acquistare. Poi, sulle pubblicità, cosa servono i testi? Che caratteristiche devono avere? Cosa mi servono? Mi servono per creare coinvolgimento. La pubblicità deve attivare qualcosa in me. Quel testo lì della pubblicità ha pochissime parole, pochissimi decimi di secondo per far dire alla gente che questa roba mi interessa. Grazie Google che mi hai dato questa pubblicità. Grazie. Perché grazie alla tua pubblicità io risolvo un mio problema. Questo deve servire quel testo. Nei social, i social sono usati spesso per fare awareness. Quindi è un testo che innanzitutto ha una funzione di scoperta. Poi ha una funzione anche di branding. Perché comunque io mi faccio scoprire ma contemporaneamente faccio capire qual è il mio mondo. In modo da attirare le persone che possono far parte del mio mondo. Poi queste che si sono attivate verranno eventualmente a interessarsi all'acquisto. Nelle email invece, nelle mail transazionali, cioè quelle automatiche, mi interessa fare retention. Quindi grazie a quella mail far capire al cliente che noi ci siamo, che sia l'azienda giusta. Deve trovare coerenza con la comunicazione che c'è sul sito. Quindi i miei valori devono trasparire anche dalla mail transazionale, la conferma d'ordine, la spedizione. Devono apparire anche lì perché così lui vede coerenza e capisce che l'azienda è uniforme, coerente e il mio brand gli si fissa bene in mente. E quindi serve a fare branding e serve anche ad attivare in lui delle idee di restare mio cliente dopo. Perché quando ho fatto la prima vendita, non ho finito, ho iniziato il percorso con quel cliente. E le prime comunicazioni dopo che ho iniziato il percorso del cliente con la vendita sono proprio quelle belle mail transazionali che gestiranno l'ordine. Quindi lì è iniziata la nostra avventura col cliente. La demo newsletter invece cosa mi serve? Beh, mi serve ad attivare una reazione. Io la mando per un motivo. Tac, voglio che questo motivo sia attivo. Devono essere scritti in maniera gli oggetti, i primi paroli, i testi che io stimoli la gente ad aprirle. Primo, che già è un ostacolo. E secondo, a leggerle. E terzo, a cliccare la call to action. Quindi questi qui servono proprio a in breve, tac, veloci, sì, sì, vieni, ti interessa. E quindi devono attivare la persona e devono interessare. Questo è quello che deve fare il copy. Però non è che tutto lo fa il copy, perché molte cose non le conosce il copy, le conosce l'azienda. I testi, ad esempio, delle schede prodotto, sì, il copy può intervenire. Se ho quattro prodotti in totale, una startup di un prodotto e vendo quel prodotto lì, ok, sicuro sono testi che fai il copy. Ma se abbiamo 150 prodotti, 1500, 100.000 prodotti, non sono testi che fai il copy. Quelli lì sono testi che devono venire da altri canali. E quindi lì bisognerà vedere. In più, su certi tipi di prodotti, in particolare, come dei prodotti che hanno dei requisiti legali, farmaci, piuttosto che dispositivi salvavite e quant'altro, bisogna che ci sia un esperto specifico di quel prodotto che scrive la descrizione. Quindi certi testi non li può scrivere il copy, che però può affiancare, revisionare, dare un consiglio. Altra cosa che tante volte non c'è proprio un copy a farla è il social. Chi scrive i testi del social? Lì può scrivere il copy, tutto bene, il copy è comunque bravo a scrivere i testi del social, però delle volte il social media manager può essere più bravo, più portato. E in molti casi le aziende lavorano direttamente sul loro profilo social, sono nate su social e quindi in quel caso saranno le aziende stesse a scrivere i testi per il social perché lo seguono quotidianamente tutto il giorno. Allora, vediamo l'ultima cosa. Come si fa a seguire un progetto con un copy? Allora, ecco gli step. Beh, punto uno si trova il copy, quindi magari lo avete già, lo conoscete, lo cercate, vi rivolgete ad un'agenzia, vi rivolgete a un freelance, trovate il copy. Nel copy è facile trovarlo perché potete vedere gli altri testi che ha scritto. È una delle figure che è più facile valutare perché non deve mostrarvi strani risultati, basta che tu legga i testi che ha fatto e ti rendi subito conto se ti piace, se sei in linea col tuo mondo. Prima cosa che si fa, il copy ti manda un brief. Cos'è un brief? Il brief è un foglio, un documento, dove il copy ti fa delle domande. Perché? Perché deve capire l'obiettivo della comunicazione. Come vi dicevo, il copywriting ha un obiettivo, deve capire a chi sta parlando e cosa deve ottenere. Quindi lui vuole sapere a chi sta parlando, vi farà domande sul tuo target, su chi sono le persone che ascolta, eccetera, e poi ti farà anche delle domande sul tuo brand. Perché tu devi parlare in un certo modo che è il tuo modo di parlare. E quindi lui vuole sapere qual è il tuo modo di parlare. E quindi ti farà domande sul brand e poi vorrà capire a cosa serve quel test, quali sono i tuoi obiettivi. Fatto il brief che non va sottovalutato, elencami i tre valori principali della tua azienda e tu non li sai perché non ci hai mai pensato. A quel punto stoppa e vai a farlo. Ho sentito una volta un'intervista di una copy nota che diceva io mando il brief e delle volte passo un anno prima che riescano a rispondermi. Ora, questo magari è un caso estremo, però non sottovalutate il tempo necessario a comprendere la vostra azienda e quindi a poter compilare un brief. Compilarlo è niente, ma sapere cosa ci va scritto è la questione. Poi, se invece avete già lavorato sul brand perché magari lo stesso brief è stato compilato per fare il logo, a quel punto è tutto facile. Quando c'è questo brief si passa al copy e il copy scrive il testo. Scrive il testo, gli si lascia il suo tempo necessario, bisogna saperlo, perché se io devo fare una pubblicità tra i giorni dopo, chiediamogli, lo ascolta, hai tempo di scrivermi il testo per la pubblicità che esce tra i giorni dopo? Ora, il copy ha scritto il testo, me lo consegna, a quel punto lo devo revisionare. Cioè non esiste che un testo esca dal copy e venga pubblicato, lo devo leggere. Perché lo devo leggere? Perché una persona che lavora per me come il copy, per quanto possa capirmi, conoscermi, avermi analizzato, avermi studiato, potrebbe sfuggirgli qualcosa. E allora succede spesso che il cliente te legga un testo e dica ah, però aspetta, tu qua hai scritto così ma mi lascia intendere questo ma in realtà non è proprio così, correggiamolo. Oppure guarda, tu usi questa parola ma questa parola nel mio mondo ha proprio un altro significato, proviamo, ah ok, la cambiamo con quell'altra. Quindi sicuramente il testo va revisionato. Quando succede questo viene poi pubblicato e poi tutto è finito. No, non è finito perché il testo è una di quelle cose come colore di un bottone della call to action, come un'immagine sul quale possiamo sapere se ha funzionato e sul quale è sano fare degli A-B test cosiddetti. Cioè il test provo a fare due pubblicità mi faccio dare due testi uno e l'altro e vediamo se il testo A converte di più del testo B. In questo modo imparo, capisco, il mio target che è attirato da una certa parola e non è attirato da un'altra parola e la volta dopo il copy mi farà un testo migliore. una volta che come tutti i contenuti l'ho ottenuto mettiamolo alla prova e poi progrediamo facendone uno meglio la prossima volta. Bene, detto questo sul copy non ho proprio nient'altro da aggiungere. Vi saluto e alla prossima. Ciao!